Una rondine non fa primavera, ma la spesa per le pulizie del cambio di stagione la faccio da acqua e sapone. Siete pronti? Seguitemi! Scholl è in promozione. Le creme, i deodoranti, spray e le maschere sono tutti scontati del 20%. Scholl, con oltre 100 anni di esperienza nella cura dei piedi, è riconosciuto per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti che aiutano a migliorare la salute, il confort e il benessere delle persone partendo dai piedi. La linea Age Perfect Renaissance Cellulaire di L'Oreal Paris è in promozione. Il nuovo siero Midnight è 19,90€ e la crema giornale è a 14,90€. E sono d'acqua e sapone con un trattamento Age Perfect in omaggio a una fascia per capelli. Le colorazioni Excellence Nude di L'Oreal Paris sono soli 8,99€, mentre la linea Spray Ritocco Perfetto è a 7,90€. Bene, ho preso tutto. Le pulizie di primavera mi costeranno le solite 12 fatiche di Ercole, ma grazie ad Acqua e Sapone tutti i prodotti necessari mi costano pochissimo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza!